Ciao amici e amiche del segno solare o lunare dello Scorpione, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo lunare motivazionale dal 16 novembre al 1 dicembre dove troveremo la luna nuova in Sagittario. Prima di iniziare vi ricordo che queste sono energie generali che vi consiglio di integrare con il vostro ascendente ma soprattutto col vostro segno lunare. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi usati per la lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli, sempre in descrizione trovate i link per contattarmi, per prenotare un consulto e chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Adesso possiamo iniziare la vostra lettura, andiamo ad accendere la luna, vediamo che cosa vogliono dirvi i vostri oracoli. Ma prima vi ricordo che a differenza degli altri oroscopi questo fa capire, aiuta a capire meglio che cosa sta accadendo nella propria vita e di intercettare quei suggerimenti da adottare sia interiormente sia praticamente per realizzare e manifestare i propri desideri. Ovviamente dal punto di vista astrologico la luna nuova in Sagittario vediamo che cosa ci porta e da un lato in senso positivo ci saranno nuove informazioni importanti, idee per migliorare, opportunità di cambiare il futuro, di crescere personalmente e professionalmente, magari finalmente di orientarsi correttamente in una direzione, di essere audaci. Appunto questa luna ci chiede di essere audaci, propositivi, di valgere il nostro sguardo in avanti, di favorire viaggi, studio, apprendimento e comunicazione, di ascoltare il proprio intuito, l'ispirazione, di lasciarsi coinvolgere dall'ispirazione, dalle avventure e dalle nuove scoperte. Di contro ci potrebbe essere troppa frenesia, fretta, voglia per forza di muoversi e di fare qualcosa e qui potremmo disperdere le nostre energie e sentirci scarichi e deboli. C'è anche il rischio di a volte eccessivo entusiasmo ed ottimismo e idealizzazione di un qualcosa o qualcuno, perdersi nelle illusioni, di aumentare la propria emotività, ma anche sentire l'esigenza per forza di aiutare gli altri a discapito nostro. Quindi anche qui è richiesto una certa attenzione. Adesso vediamo la vostra prima carta che solitamente va a identificare un momento presente o un qualcosa che forse deve essere sistemato prima di procedere nel vostro percorso e quindi in questo caso troviamo la luna piena in leone. Può parlare proprio di energie fortissime perché questa carta indica un'energia straordinaria, un'energia che è in noi e che purtroppo se non controllata come si deve può farci esplodere o andare troppo da una parte o troppo dall'altra. Cioè nel senso che magari potremmo essere troppo duri, troppo eccessivi con qualcuno, porre fine a delle situazioni e magari poi ritornare sui nostri passi. Dall'altro lato potremmo invece rischiare di bloccarci per eccessivo orgoglio e quindi ecco è il caso proprio di gestire al meglio, convogliare questa energia, cercare di calibrarla per gestirla al meglio, di gestire al meglio appunto questi impulsi, magari di favorire la sensibilità, la creatività, di fare un qualcosa insomma di specifico. Se sentite di fare un passo azzardato ecco meglio fermarsi un attimino, staccarsi, prendersi una piccola pausa e poi agire, agire o intervenire in alcune situazioni, soprattutto nei dialoghi, quei famosi secondi, quei 10 secondi per riflettere. Vediamo adesso quali sono altre indicazioni. Troviamo la luna nuova in bilancia e poi il primo quarto di luna. La luna nuova in bilancia parla effettivamente di un'energia intorno a noi che in qualche modo deve essere gestita. In questo caso appunto si tratta proprio di andare a sottolineare quello che si stava dicendo e che effettivamente è possibile trovare un equilibrio o dobbiamo comunque favorirlo soprattutto tra dare e l'avere, cercare un compromesso, cercare di non rimanere nella nostra appunto posizione ferma, ma cercare di adattarci, di fare un compromesso, di collaborare, di negoziare, di ascoltare le sensazioni anche quelle degli altri e quindi di riportare l'equilibrio. Può essere possibile una ripartenza in cose tangibili, quindi a livello materiale, di lavoro o di altro genere, però è possibile anche una ripartenza o una nuova relazione. Ci possono essere in ballo anche delle questioni a livello legale. Vediamo adesso quali sono altre situazioni. Effettivamente il primo quarto di luna ci parla purtroppo di riscontrare dei blocchi, delle difficoltà, degli ostacoli, però che non arrivano a metterci bastoni tra le ruote, dico tra virgolette, per cattiveria. No, no, è invece un momento importante, vuol dire che qualcosa arriva a verificare le nostre vere motivazioni e intenzioni. Quindi fatevi una domanda, se avete un obiettivo, un desiderio, un qualcosa o anche riguardo un interesse verso una persona, quindi di qualsiasi cosa si tratti, chiedetevi se desiderate veramente quella cosa. Se la risposta è sì, assolutamente sì, però ricordiamoci che si deve creare un distacco da quello che si vuole semplicemente per ostinazione o per capriccio, da quello che si desidera veramente, quindi di ascoltare le proprie esigenze. Quindi una volta che avete risposto sì, allora dovete proprio impegnarvi maggiormente. Se vacillate, e allora forse quello potrebbe essere il momento giusto che vi fa capire veramente, veramente che cosa desiderate e quali sono i vostri veri bisogni. Adesso andiamo avanti con ulteriori indicazioni che arrivano in questo caso dalla carta che indica proprio in genere la ricettività. Ricettività è apertura, apertura quindi magari se ci sentiamo pieni di cose inutili, di pensieri bloccanti eccetera. Questa carta ci consiglia proprio che è arrivato il momento giusto proprio per svuotarsi e accogliere con consapevolezza però cose, pensieri positivi, quindi è proprio il caso di mettere da parte l'ego e di essere appunto ricettivi, di comunicare, di dedicarsi alle cose più importanti. Sono comunque in arrivo, ecco perché il nostro cavo parla di svuotarci per preparare ad accogliere qualcosa che è in arrivo. Però si può consentire questo passaggio, questa ricezione, solo se appunto ci liberiamo e quindi dobbiamo assolutamente fidarci di noi, della nostra esperienza, delle nostre sensazioni e quindi praticare l'ascolto. Ma questo l'abbiamo visto anche dalle indicazioni precedenti. Un'altra indicazione arriva dall'angelo che cade. può sembrare negativa come carta così di più per l'immagine dell'angelo che cade, ma no assolutamente no perché dà un consiglio di guardare le cose da un'altra prospettiva. Magari appunto a volte si cade perché ci sono degli eventi che ci mettono nelle condizioni di fare dei cambiamenti in senso forzato perché non li abbiamo fatti ultimamente oppure forse stiamo procedendo in modo troppo lento rispetto a quello che ci aspetta, appunto i doni che sono in arrivo. Quindi da un lato è vero, non bisogna buttarsi a capofitto, quindi di non avere fretta, questo sì, però dall'altro lato comunque mettersi nelle condizioni di aprirsi a nuove esperienze, a nuove situazioni ovviamente con positività e consapevolezza. Poi un'altra indicazione arriva da questa carta, il giardino di Venere che parla allo stesso tempo di riposo e di rinnovamento. La luna nuova in genere è sempre un periodo adatto a purificarsi, a rinnovarsi, a cercare anche di riposarsi per ricaricare le proprie energie e in questo caso ci consiglia di trovare un luogo, uno spazio per qualche momento di abbandonare il campo di battaglia delle nostre sfide, mettere da parte le ostilità o la difesa eccessiva e quindi praticare appunto il riposo e il rinnovamento. Oppure anche un altro messaggio importante è quello di smettere di cercare per forza qualcosa o qualcuno, quindi accettare, accettarsi, amarsi, volersi bene e prepararsi appunto ad accogliere dei doni che arriveranno. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Alla prossima vi auguro una buona luna, ciao!